Grazie a tutti. Perché chiaramente da fuori, da osservatore, non si capisce mai bene che cos'è questa galassia radicale. Sono tutte cose abbastanza nuove per noi. È interessante perché è una cosa in movimento, quindi ogni volta si capisce, per esempio, che i radicali nel loro piccolo riescono a fare delle battaglie. Per esempio in questo momento fa un po' impressione perché si sta parlando un sacco di giustizia, c'è la ministra Cancellieri, ci sono una serie di persone che hanno una competenza specifica su alcune cose. Chiaramente essendo una zona piccola di contrasto e di difesa dei diritti è interessante perché tutti si buttano su un argomento. Allora certe volte dall'esterno dici vabbè ma chissà se i radicali riescono poi a occuparsi di qualcos'altro, riescono perché il diritto sembra una cosa al singolare, invece in realtà è una cosa al plurale. Quindi sono il diritto o i diritti? Il diritto in assoluto e poi i diritti. Allora ti viene voglia, dici vabbè allora pensare agli ultimi, pensare come si fa a difendere una persona che viene incarcerata e poi come si fa a difendere il ragazzino che va in carcere per droga e si fa tre anni per soltanto, non so, per quanto mi riguarda ho fatto delle iniziative con nessuno tocchicaino. Sono stata molto coinvolta proprio perché siamo andati in carcere e c'erano dei ragazzini in zona protetta e quindi è molto interessante fare questo tipo di considerazioni che chiaramente faccio da un altro campo, insomma non sono né un avvocato, però mi piacerebbe riuscire a coinvolgere le persone perché in qualche modo sono come delle semine. E da quello si può partire per fare altre cose, per esempio prima stavamo riflettendo con altri compagni di Radicali Roma su come far vedere che i radicali per esempio non è che vogliono l'amnistia perché poi non si occuperanno di quello che succede dopo. Per cui c'erano alcuni compagni che avevano fatto delle foto proprio su questo argomento, cioè vedere quando tu conosci una persona che è uscita dopo 40 anni di carcere, in Italia ci sono molte persone che sono entrate a 16-18 anni magari per terrorismo, insomma cose brutte, non è che sono proprio dei santarelli. E poi dici va bene ma non è che tu stai mettendo fuori una persona e la lasci allo sbaraglio, quindi è anche un modo per occuparsi sul piano sociale di come affrontare questa cosa culturalmente. Per quanto mi riguarda sono artista quindi a noi interessa proprio il ponte su come a livello sociale si riesce a risolvere questo gap perché siccome una certa destra italiana punta sempre sul fatto di quindi le prigioni, l'aumento di polizia, la sicurezza, la più grande ipocrisia del mondo, la sicurezza, quando invece ci sono queste persone, anzi spesso fanno un sacco di lavoro sociale perché sanno benissimo cosa significa e sicuramente hanno pagato molto caro questa pena perché non è uno scherzo entrare in carcere a 20 anni e uscire a 60, cioè la gente va in pensione in Italia a 60 anni, quindi è molto difficile far passare questi messaggi che sono diciamo per quanto mi riguarda è la parte poetica mi piacerebbe che venisse fuori da questo congresso una parte poetica ma indubbiamente siccome ci sono delle urgenze dei radicali si vede sempre la parte diciamo combattiva, non violenta ma comunque combattiva e quindi in questo caso sarebbe bello riuscire a fare, se le persone si sentissero più coinvolte sarebbe bello integrare persone diverse perché sull'urgenza magari c'è una predominanza di avvocati, giudici eccetera eccetera e invece mancano i poeti, i musicisti e invece poi ci sono un po' di tecnicismo insomma e questo mi piacerebbe allora aspetta un attimo posso dire un'altra? come no? certo allora una cosa che voglio dire è che vorrei fare un appello alle ragazze perché nel partito radicale ci sono un sacco di donne in gamba soprattutto diciamo dalla mia generazione anche molto giovani ed è un peccato che gli interventi sono un po' timidi e un po' diciamo poco dirompenti quando invece c'è anche nella storia radicale ci sono delle donne molto in gamba e dovrebbero prendere questo modello perché in una situazione così democratica è molto interessante che è molto interessante che uno si possa fare avanti e non dire poi dopo che è stato escluso perché si viene escluso all'inizio quindi sarebbe bello se ci fosse più partecipazione in maniera robusta e anche magari in carichi di responsabilità sì il bello è che uno arriva e se le prende per esempio l'altro giorno c'erano delle persone che sono venuti alla riunione dei radicali Roma e dicevano voi radicali dovreste fare così io ho detto vieni qui e fai tu questa cosa perché la cosa bella è proprio di riuscire a fare le cose se uno ha quell'idea non di dire agli altri perché in Italia c'è sempre questa abitudine di dire voi dovreste fare questa voi chi? io sono arrivata adesso cioè voi chi? fallo tu vieni qui lo facciamo insieme magari però si può fare ok Laura insomma ti auguriamo un buon congresso per quello che resta ancora ci sta insomma una buona 24 ore insomma di congresso perché domani pomeriggio finirà e vediamo un po' come va nel frattempo radicali Roma sta facendo anche delle iscrizioni sì stiamo cercando di fare delle iscrizioni e abbiamo dei problemi con le tessere eh no se ci racconti infatti volevo darti diciamo un'imbeccata per raccontarci come state ovviando che è molto simpatica eh si sono dimenticati a Roma le tessere e vogliamo fare un'edizione speciale che io ho fatto a mano ma mi è venuta abbastanza male quindi dovrò recuperare però questa cosa che era venuta male non sapevo mi mancava questa seconda parte se no non ti avrei chiesto no è che la tabaccheria non mi voleva vendere neanche i colori cioè c'è solo una tabaccheria quindi non abbiamo neanche gli strumenti ho capito va bene comunque insomma l'inventiva non manca la faremo sì però abbiamo deciso di vendere le tessere speciali con una tiratura di un artista insomma faremo delle iniziative in questo senso va bene mettiamo un po' di arte sulle tessere grazie grazie Laura